Buona giornata. Un vecchio professore incontrato mi diceva questa frase che mi ha colpito riguardo all'educazione ma che può coinvolgere tantissime cose di noi stessi. Se te lo dico ti dimentichi, se te lo faccio vedere te lo ricordi, se ti coinvolgo lo capisci. È proprio vero. Il fare esperienza di quello che si è chiamati poi a vivere, che non è solo un ricordo ma non è solo per certi versi una dimenticanza oppure una memoria da poter utilizzare. Chissà se questa frase può aiutarci oggi soprattutto nelle cose con cui noi siamo chiamati a condividerle con altri per trasmetterle. Può essere la preghiera, può essere il rispetto, può essere tante situazioni. Il Signore ti benedica. Buona giornata.